Presidente Roberto Schiavone, ieri ancora un episodio di grande violenza, partiamo un attimo da raccontare quanto è successo ad Eboli. Ieri sera ad Eboli siamo un po' al colmo perché l'ambulanza immediatamente ha avuto la chiamata di soccorso e è arrivata sul posto. C'era ancora il feritore, diciamo, è quello che ha preso le sette coltellate. Giustamente il poverino ha cercato di portarsi all'interno dell'ambulanza per salvare le altre coltellate, però non è salito dietro ma si è buttato davanti nella cabina. L'autista minacciata da queste persone che stavano lì, si è trovato un attimo in una situazione, il medico si è trovato a questo addosso ma nella cabina. Alla fine hanno deciso di correre così in ospedale perché c'era ancora la folla, le forze dell'ordine ancora dovevano arrivare, pertanto sono corsi in ospedale, ma mentre scappavano calci, pugni dentro l'ambulanza. Ormai io penso che il Covid-19 abbia portato pure altri tipi di problemi perché la gente non lo so, non sta bene. Che c'entra l'ambulanza con le vostre discussioni? Ieri mattina all'altezza del Macondo la centrale operativa ci chiama per un intervento di una signora, una donna colta da malore di colore, siamo arrivati lì sul posto, la centrale operativa ci comunica che visto che dalla telefonata sembrava che la signora avesse qualche problematica grave, aveva chiamato il salto di vietri sul mare per farlo intervenire insieme a noi e poi il medico avrebbe valutato se accompagnare o no il paziente in ospedale. Ma quando siamo arrivati lì non è stato semplice spiegare a questo gruppo di senegalesi che poi mi meraviglia perché noi abbiamo una sede anche a Dakar in Senegal e devo dire che i senegalesi come africani sono quelli più bravi, si sono messi a fare i pazzi, hanno inverito contro l'ambulanza e penso che sia il marito della signora che stava male ha sferrato due cazzottoni di una certa importanza l'autista, che l'autista si è trovato un attimo così, alla fine l'hanno minacciato che se non correva in ospedale avresti pure il resto. Giustamente c'era anche la centrale operativa in linea che stava ascoltando e sono partiti alla volta dell'ospedale. Poi se vogliamo rammentare qualche giorno fa ci hanno imbrattato tutta l'ambulanza con uno spray, con tutta una serie di disegni sconci eccetera eccetera, è un momento particolare, la gente io penso che più andiamo avanti più si torna alla normalità e più questi esploderanno proprio con la testa e tutti i giorni ormai è una battaglia, non riesci più a parlare con la gente, a ragionare con la gente, la gente è imbazzita, non lo so che cosa sta succedendo ma penso che dovrebbero ci vogliono i psicologici che dovrebbero girare insieme agli autisti nostri nelle ambulanze.